ciao a tutti amici di valerio photo school oggi vediamo ancora dei filtri dedicati alla fotografia astronomica abbiamo visto recentemente un filtro della case molto interessante il bright star che permette di raggiungere una messa a fuoco molto precisa con facilità con gli obiettivi fotografici oggi invece vediamo un kit è un kit composto da un filtro ancora come il bright star denominato star focusing che permette in modo assolutamente identico al bright star di raggiungere la messa a fuoco perfetta su ogni obiettivo e poi il neutral night un filtro che permette da un lato di ridurre un po l'inquinamento luminoso ma soprattutto di bilanciare meglio i colori qui li vediamo nella versione da 82 mm ma esistono anche nella versione da 77 mm dipende un po da uno che obiettivo vuole utilizzare il neutral night inoltre è disponibile anche in versione clip da inserire all'interno della fotocamera la particolarità di questi filtri è che a differenza dei normali filtri a vite questi sono filtri magnetici ovvero sono composti da due parti una parte con la classica filettatura vite da avvitare chiaramente sulla frontale dell'obiettivo e il filtro stesso in realtà è magnetico quindi basta appoggiarlo alla parte che sarà avvitata l'obiettivo e si unisce questo soprattutto per il fatto che poi anche facile rimuoverlo facilita enormemente il lavoro di notte quando si fotografa il cielo stellato dello star focusing ne abbiamo già parlato e vi rimando al limite a questo link del modello non magnetico ma il cui funzionamento è assolutamente identico la cosa più interessante però è questo filtro il neutral night l'inquinamento luminoso ormai rovina i cieli un po di tutti i posti anche in montagna se non si è davvero in alta quota o nel cuore delle alpi si nota inquinamento luminoso se poi andiamo a fotografare nelle vicinanze di una città l'inquinamento luminoso è davvero terribile quando si prova a fotografare il cielo di notte in queste condizioni ci si accorge subito che il cielo risulta di un terribile colore marroncino oltre al fatto che va a nascondere gran parte delle bellezze astronomiche sopra la nostra testa il funzionamento di questo filtro è davvero molto particolare perché apparentemente ha un leggero colore azzurrognolo ma se lo andiamo ad analizzare meglio scopriamo che non si tratta di un banale filtro azzurrino ma è un filtro interferenziale cosa significa significa che blocca determinate lunghezze d'onda della luce e ne lascia passare delle altre quali blocca blocca in particolar modo quelle relative alla luce gialla dell'illuminazione stradale quindi applicando questo filtro otterremo un bilanciamento di colori molto più naturale sia fotografando da un bel cielo di montagna sia fotografando soprattutto dalla magari non proprio dal centro città ma comunque dalla pianura o nelle vicinanze di centri urbani dove l'inquinamento luminoso si fa sentire di più il problema dei filtri interferenziali però è quello che spesso il loro funzionamento dipende dall'inclinazione con cui incidono i raggi luminosi quindi normalmente un filtro interferenziale funziona bene con determinate focali ovvero con focali i cui raggi sono abbastanza paralleli quindi lunghe focali normalmente da 100 200 mm in su e anche con aperture relative non molto elevato normalmente intorno a f4 f8 sarebbe ideale questo filtro invece fa di più ho analizzato il filtro con questo spettroscopio un piccolo giocattolo che avevo preso davvero qualche decennio fa in una fiera di astronomia questo strumento permette proprio di vedere le frequenze bloccate da questo filtro qui ad esempio possiamo vedere lo spettro in luce continua dove vediamo dai 400 e 700 nanometri lo spettro con tutti i colori qui adesso vediamo il filtro neutral night dove si vede che alcune frequenze luminose sono bloccate proprio questa caratteristica particolare di questo filtro permette di ridurre l'inquinamento luminoso i filtri neutral night della case non sono gli unici filtri di questo tipo in campo astronomico da diversi anni da decenni quasi esistono dei filtri interferenziali il problema di questi filtri come dicevo prima è che normalmente funzionano bene solo con le lunghe focali e con rapporti di apertura entro un certo range infatti qui possiamo vedere lo spettro di un altro filtro che io utilizzo da anni con grande soddisfazione per le foto astronomiche che l'IDAS e le PSP2 che come vediamo blocca anch'esso diverse lunghezze d'onda della luce anzi ne blocca molte di più anche del filtro della case qual è però il limite del filtro IDAS? il limite grande di questo filtro è che non si può usare con focali inferiore ai 100 mm perché altrimenti la luce incidente sul filtro viene deviata in maniera differente e ci si trova quando si usano focali più corti un 50 un 35 mm oppure un grand'angolo per fare una bella ripresa della via lattea ecco ci si ritrova con i bordi magenta e il centro un pochino tendente al verde proprio per lo slittamento cromatico tipico caratteristico dei filtri interferenziali classici la scelta di case è stata invece molto interessante perché hanno deciso di limitare un pochino l'eliminazione di determinate frequenze ma questo ha permesso di ampliare tantissimo l'angolo di incidenza della luce quindi questo filtro a differenza degli altri filtri classici dedicati all'astronomia si può usare tranquillamente anche con le ottiche grand'angolari non solo chi pratica astrofotografia sa bene che fotografare le nebulose soprattutto che emettono in Hα fa quindi una frequenza luminosa tendente al rosso con le reflex classiche si ha qualche difficoltà perché il filtro che taglia l'infrarosso davanti al sensore della fotocamera taglia un pochino anche di queste frequenze e quindi i colori delle nebulose fotografate con una fotocamera tradizionale vengono un pochino con più difficoltà e soprattutto poi richiedono molte più pose quindi molta più integrazione per raggiungere un buon risultato infatti è pratica comune tra gli astrofotografi che utilizzano la classica Reflex modificare la fotocamera sostituendo il filtro posto davanti al sensore con un filtro che taglia un pochino più verso l'infrarosso in modo da lasciare passare completamente la frequenza dei 656 nanometri in cui emettono le nebulose in Hα ecco con le fotocamere normali invece grazie anche a questo filtro qua che bloccando determinate lunghezze d'onda enfatizza meglio proprio le nebulose quindi oltre a scurire un pochino il cielo oltre a togliere il giallo tipico dell'inquinamento luminoso dato dall'illuminazione stradale evidenzia permette di migliorare la resa quando si fotografano le nebulose quelle classiche rosse con una fotocamera che non è modificata per l'astrofotografia quindi doppio vantaggio non vi sto neanche a dire la praticità di avere un sistema di filtri dotato di calamite dove prima posso montare il filtro per la messa a fuoco poi lo tolgo semplicemente tirandolo via e poi gli appoggio sopra il filtro antinquinamento luminoso e continuo a scattare certo di non aver modificato in alcun modo la messa a fuoco vi assicuro che invece lavorare soprattutto d'inverno al freddo magari con i guanti e cercare di avvitare e svitare il filtro davanti all'obiettivo è davvero un'operazione non solo fastidiosa perché comunque le dite intorpidite dal freddo non sono particolarmente reattive ma c'è anche il rischio che col tatto e con l'uso dei guanti la sensibilità venga un pochino meno e quindi la probabilità che il filtro cada per terra è molto elevata questa soluzione io trovo che sia davvero spettacolare perché permette solo di avvicinarlo e rimane agganciato al portafiltri tra l'altro se avessimo nel nostro corredo più obiettivi da utilizzare per le foto alle stelle possiamo anche richiedere esclusivamente l'anello filettato da tenere costantemente montato sull'obiettivo è un accessorio a parte ma si può richiedere e questo permette così di spostare velocemente il filtro senza nemmeno avvitare l'adattatore magnetico sull'obiettivo ora che ci apprestiamo verso la stagione della Via Lattea quindi da aprile, maggio, giugno fino a tutto luglio usare questo filtro anche con un bel grand'angolo diventa davvero la soluzione ideale migliora il contrasto anche quando siamo sotto un bel cielo di montagna ma soprattutto migliora sensibilmente la qualità delle foto quando si fotografa da cieli non particolarmente belli ma c'è un'altra caratteristica davvero interessante di questo filtro che essendo appunto un filtro interferenzale che blocca soprattutto l'inquinamento luminoso ovvero tutta la luce generata soprattutto dall'illuminazione pubblica può avere un interessante utilizzo anche per le foto di interni quando scattiamo in presenza di luci di diverso colore di solito si impazzisce a cercare di bilanciare poi il bilanciamento del bianco per evitare dominanti verdastre, magenta, gialle nelle nostre foto ora non succedono miracoli però proprio per il fatto di attenuare determinate radiazioni questo filtro permette di avere delle foto molto più bilanciate cromaticamente quindi anche se non ci si diletta nell'astrofotografia vera e propria anche banalmente delle fotografie notturne di città possono beneficiare enormemente dell'utilizzo di questo filtro i colori risultano più naturali, i contrasti cromatici altrettanto e le differenze di colore delle varie sorgenti luminose si riducono quindi un filtro davvero da avere sempre con sé soprattutto per i paesaggisti sia di città che astrofotografici abbiamo provato questo filtro anche in montagna sotto un cielo non perfetto perché comunque erano montagne vicino a Milano e abbiamo visto il notevole vantaggio che offre quindi nella foto senza filtro così come esce dalla fotocamera vediamo questa dominante un pochino giallina col filtro IDAS che utilizzo normalmente sui telescopi quindi con ottiche molto più lunghe di focale qui utilizzato con un normale 50 mm su una full frame si vede chiaramente che i bordi hanno uno slittamento cromatico davvero fastidioso quindi è un filtro che diventa sostanzialmente inutilizzabile usando invece il filtro Neutral Night di Case vediamo che l'uniformità di colore fino ai bordi è pressoché perfetta ma non solo, il contrasto è comunque aumentato e se andiamo a vedere il dettaglio di una nebulosa qui abbiamo inquadrato la costellazione di Orione al cui interno c'è la famosa nebulosa M42 la grande nebulosa di Orione che è visibile anche in un comune 50 mm nella foto senza filtro si vede giusto un bagliore luminoso nella foto col filtro Case si vede, si inizia a percepire abbastanza in maniera evidente il colore della nebulosa quindi è ottimo anche per bilanciare meglio i colori delle nebulose quando si utilizza, come in questo caso, una fotocamera che non è stata modificata espressamente per astrofotografia quindi monta ancora il classico filtro IRCAT davanti al sensore quello standard con cui esce dalla fabbrica stesso discorso per il filtro Star Focusing o il Bright Star che abbiamo già provato come vi dicevo nell'altro video è un filtro estremamente comodo perché permette davvero di raggiungere con estrema precisione la messa a fuoco perfetta non c'è nulla di più fastidioso in un'astrofotografia scoprire una volta che si è tornati a casa dopo aver passato la nottata al freddo col vento in montagna di aver sbagliato di poco la messa a fuoco ecco, questo filtro permette di evitare completamente questo difetto e poi come avevamo già accennato nell'altro video il diametro di 82 mm permette anche di utilizzare questo filtro anche sui piccoli telescopi dove troviamo questi filtri? beh, oggi abbiamo fortunatamente un importatore italiano di questi filtri quindi vi lascio tutti i dettagli nella descrizione sotto il video perché come l'altra volta poi ho ricevuto diversi messaggi chiedendomi appunto dove si possono recuperare questi filtri e per chi è di Milano potrà acquistarlo tranquillamente dal distributore se no nei negozi di fotografia più forniti se vi è piaciuto anche questo video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così verrete informati di quando pubblicherò altri video grazie a tutti e a presto ciao